Ciao a tutti ragazzi, oggi vi mostro il nuovo arrivato da parte dell'azienda CECOTEC ed è il nuovo lavavetri, il modello Konga Windroid 880 ed è questo magnifico lavavetri automatico che comunque può essere controllato tramite un'app adesso vi faccio vedere al suo interno qui abbiamo il libretto di istruzioni poi qui troviamo il dispositivo con il tasto d'accensione qui va a collegarsi il filo per una questione di sicurezza qua va ad inserire comunque l'acqua va comunque a spruzzare automaticamente infatti tramite l'app si possono controllare sia lo spruzzo che comunque anche la versione di rotazione e quindi come comandarlo è davvero bellissimo anche perché è leggero e se attacca ventosa al vetro qua ci sono queste spugnette poi qui abbiamo questi qua che sono i ricambi allora e poi qui all'interno del pacco troviamo questo laccio per poterlo attaccare in questione comunque di sicurezza dipende a che piano dobbiamo lavare i vetri comunque con questo lo possiamo agganciare quindi lo possiamo tenere poi qui abbiamo l'adattatore con la presa per poter comunque far partire con quel nostro robottino lavavetri e qui abbiamo delle spugnette di ricambio per poter lavare i vetri e poi qui abbiamo questa pompetta che serve comunque per poter inserire comunque il liquido e lavare comunque i vetri con un detergente adatto io non vedo l'ora di mettermi all'opera e lavare le mie vetrate vi posso vedere come funziona ok Grazie.